Ciao a tutti, sono Giancarlo della JB Cars di Monza. Nello scorso video vi abbiamo fatto vedere come trattiamo le vetture con la sanificazione ad ozono. Oggi vorremmo parlarvi della sanificazione a vapore. Il vapore ha tanti aspetti a suo favore, tra cui non contiene sostanze chimiche, è innocuo, ecologico, e soprattutto possiamo arrivare quasi ovunque nel particolare per pulire tutte le sostanze di superfici, di moquette, di vetri. Quindi andiamo a sanificare tutto l'abitacolo. Inoltre il vapore lavora tra i 140 e i 180 gradi, quindi va a distruggere qualsiasi germe che c'è in giro e virus. Lo vorremmo poi abbinare, come abbiamo fatto vedere nel video precedente, all'ozono. L'ozono va a riempire tutto il volume della vettura con questo gas che va a inarmare il virus. Non andiamo a distruggerlo, lo andiamo solo a inarmare e lo rendiamo innocuo. Adesso andiamo nel dettaglio. Tra i vantaggi che vi elencavo abbiamo quello di andare a pulire le superfici, quindi anche gli interni. Li andremo a rendere nuovi, dove ci sono macchie e impurità, il vapore va a sciogliere tutte le impurità e tutte le macchie. Adesso vi faremo vedere la differenza tra una vettura sporca come questa, dopo aver eseguito il nostro trattamento, come avverrà. Come ultimo step la vettura eseguirà un lavaggio esterno, quindi la vettura verrà sia lavata esternamente che tutte le plastiche. Vediamo adesso il risultato finale del nostro lavaggio a vapore. Il lavaggio a vapore, come vi dicevo prima, lavora tra i 140 e i 180 gradi. Vengono eseguiti con due tipi di vapore. Il primo per sgrassare, quindi ad alta potenza. Il secondo, saturo al 4%, che serve ad aiutare l'asciugatura del prodotto. Inoltre, non va a contaminare i prodotti elettrici. Questo è quello che noi, di default, facciamo già sulle nostre vetture usate. Quindi, quando vi vengono consegnate delle vetture usate, viene eseguito questo tipo di trattamento. Logicamente, questo è un servizio su prenotazione. Non esitate a contattarci, per maggior informazione o per prenotarlo, al sito internet www.gbcars.it o tramite indirizzo di posta elettronica officinachiocciola.gbcars.it o sui nostri call center allo 039 38 9614. Grazie e ciao da GB Cars. Grazie a tutti.